Fiori di luce nell'oscurità Nel cuore della periferia di una città, la famiglia Takahashi, seguace degli insegnamenti Zen, viveva una vita serena e connessa alla natura. La casa modesta era circondata da un giardino Zen, un'oasi di calma in un quartiere frenetico. Yuki, il capofamiglia, era un maestro Zen rispettato, noto per la sua saggezza e la sua serenità. Sua moglie, Akiko, era un'anima gentile, e i loro due figli, Haruki e Mei, crescevano immersi nei valori della famiglia. Un giorno, la tragedia colpì la famiglia Takahashi quando un terremoto devastante scosse la città. La loro casa, un tempo rifugio di pace, fu distrutta, e la famiglia perse tutto. Yuki, pur mantenendo la calma esteriore, sentì il peso dell'angoscia mentre cercava di proteggere la sua famiglia dai detriti della distruzione. In mezzo all'oscurità della tragedia, la famiglia Takahashi si aggrappò agli insegnamenti Zen. Trovarono conforto nelle parole di Yuki, nel buio più profondo, la luce interiore può brillare più intensamente. È il momento della nostra rinascita. Con il sostegno della comunità circostante, la famiglia decise di ricostruire la loro vita. Un piccolo rifugio temporaneo divenne il loro nuovo focolare, mentre Yuki insegnava ai suoi figli la forza della resilienza e la bellezza di accogliere il cambiamento. La comunità Zen si unì in un'opera di solidarietà, aiutando la famiglia Takahashi a coltivare un nuovo giardino Zen, simbolo di rinascita e speranza. I fiori di loto, anche se piantati in terre nuove, crescevano con una bellezza rinnovata, incarnando la forza e la delicatezza della famiglia. Con il passare del tempo, la famiglia Takahashi riaffermò la sua connessione con la vita e la natura. Haruki e Mei, guidati dagli insegnamenti dei genitori, divennero faro di speranza nella comunità. La tragedia si trasformò in una storia di resilienza e rinascita, una testimonianza del potere di trovare la luce nell'oscurità. Il nuovo giardino Zen divenne il simbolo della forza della famiglia Takahashi e dell'intera comunità. Nel mezzo della periferia, fiori di luce sbocciavano, portando con sé una felicità profonda, frutto della rinascita di una famiglia Zen che aveva imparato a trovare la gioia anche nelle avversità. Con il passare delle stagioni, la famiglia Takahashi si impegnò nella ricostruzione del proprio destino. Haruki e Mei, influenzati dagli insegnamenti di Yuki e Akiko, divennero pilastri di forza e speranza nella comunità. Il nuovo giardino Zen, coltivato con cura e amore, si trasformò in un luogo di meditazione per tutti. Le pietre disposte con saggezza e i fiori di loto che sbocciavano vibravano di una serenità rinnovata. Gli abitanti della periferia, colpiti anch'essi dalle avversità della vita, trovavano rifugio in quel luogo di rinascita. La famiglia Takahashi, con una determinazione instancabile, diede inizio a progetti di solidarietà per la comunità. Organizzarono laboratori di meditazione e workshop sulla resilienza, ispirando altri a trovare forza nelle difficoltà e a coltivare la propria luce interiore. Haruki si dedicò all'insegnamento degli antichi principi Zen, conducendo cerimonie di meditazione nel giardino. Mei, con il suo spirito compassionevole, si unì a iniziative di beneficenza, portando speranza a coloro che avevano perso tutto nel terremoto. Il rifugio temporaneo divenne una comunità prospera, alimentata dalla compassione e dalla forza della famiglia Takahashi. Yuki e Akiko, nonostante le cicatrici della tragedia, si rallegravano nel vedere i loro figli guidare la comunità verso una nuova era di speranza e comprensione reciproca. Il giardino Zen, ormai rigoglioso di vita, divenne il centro di celebrazioni e riunioni. Gli abitanti della periferia si riunivano per onorare la resilienza e la generosità della famiglia Takahashi. Nel cuore della città, tra le pietre posate con saggezza, la luce della speranza continuava a risplendere. La famiglia Takahashi, una volta segnata dalla tragedia, si trasformò in un faro di ispirazione. La loro storia si diffuse oltre i confini della periferia, ispirando altre comunità a trovare la forza nella vulnerabilità e a costruire la propria felicità dalle macerie della sventura. E così, la tragedia della famiglia Takahashi si tramutò in una storia di rinascita, illuminando la periferia della città con fiori di luce e speranza. La loro lezione preziosa era quella di trovare la bellezza nell'oscurità e di costruire una nuova vita su fondamenta di resilienza, amore e saggezza. Grazie a tutti!